Noi nel nostro pronto soccorso stiamo vedendo sempre più casistica di bambini, preadolescenti e adolescenti con problematiche psicopatologiche acute, anche vere e proprie neuroemergenze neuropsichiatriche. Sono aumentati soprattutto dopo l'epidemia Covid. Aumentano le situazioni di emergenza e urgenza psicopatologiche fra i giovani anche ad Arezzo. Non passa giorno che nel nostro pronto soccorso, letti hobby, nelle nostre adegenze ospedaliere non ci sia purtroppo ricoverato uno o più bambini o ragazzi, preadolescenti con una di queste problematiche molto varie che vanno. Faccio un esempio dagli stati di ansia, attacchi di panico, autolesionismo, condotte purtroppo anche importanti di tipo suicidari oppure disturbi comportamentali e in generale disturbi del comportamento alimentare ma anche disturbi acuti neuropsichiatrici. Per rispondere a questo bisogno di cura è stata così ampliata l'equip sanitaria con la presenza di uno psicologo che svolgerà la propria attività tra l'unità funzionali salute mentale, infanzia ed adolescenza e il reparto di pediatria dell'ospedale San Donato. Come diceva il dottor Martini sicuramente la pandemia ha decisamente aumentato le situazioni anche se dei segnali di criticità importante li abbiamo visti anche nella situazione prepandemica. La situazione adolescenziale in generale è una situazione che ci preoccupa molto da tanti punti di vista, accompagnano le emergenze che accedono all'ospedale, c'è tutta una serie di altre emergenze che hanno a che fare più con il livello sociale che accedono spesso anche nell'area della tutela minori caratterizzate anche da situazioni di violenza minorile significativa nella nostra città e quindi è un'area di attenzione fondamentale per il Dipartimento di Salute Mentale che in questo tempo ha cercato di costruire percorsi di rete tra tutti i servizi interessati in un raccordo molto stretto con le scuole e con il sociale del territorio. Sarà così garantita continuità tra lo spazio ospedaliero ed uno territoriale e la continuità del percorso di cura. La presenza che possa accogliere queste situazioni di emergenza urgenza all'interno del reparto e fare rete con il territoriale e quindi tutti gli interventi necessari poi al momento della dimissione. Grazie. Grazie.